La gara contro Malaga chiuderà il genone di andata delle top 16 e sarà una partita nella quale vorremmo confermare quanto di buono ho fatto fino adesso e quindi dare continuità di rendimento, di performance di fronte a un avversario a guerritissimi che arriverà a Milano con il nostro identico record e con un ruolino fatto di autentiche imprese come l'ultima gara vinta largamente contro il Panatinecos si tratta di una squadra molto fisica, atletica che gioca un basket aggressivo e che sicuramente cercherà di limitare il nostro gioco d'attacco con marcature molto aggressive speriamo in un palasporti desio tutto esaurito un'atmosfera speciale per centrare un'impresa che ci permetterebbe di consolidare la nostra attuale posizione di Amazia grazie 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 grazie